Questo video è sponsorizzato da JLC PCB, un'azienda specializzata nella produzione di circuiti stampati che con tariffe bassissime permette di ricevere PCB di ottima qualità in pochi giorni. Potrete ordinare al costo di soli 2 dollari 10 prototipi con un tempo di produzione di soli 2 giorni. Ciao a tutti e benvenuti in laboratorio. Come sempre prima di iniziare un saluto a due nuovi sostenitori del programma Patreon e quindi ciao a Alessandro e a Sergio P. Grazie per il vostro contributo, è molto apprezzato. Vediamo il video di questa sera. In passato, se vi ricordate, abbiamo avuto alcuni episodi della saga su Z80. Abbiamo costruito un piccolo computer basato su Z80 seguendo uno schema classico che utilizza la porta seriale per entrare in comunicazione col microprocessore. Avevamo nell'ultima puntata utilizzato un circuito stampato versione 1 sul quale c'erano diversi errori e adesso è arrivata la versione 2. e quindi vediamo se questa parte al primo colpo in modo che così per chi fosse interessato poi la possiamo distribuire. E quindi, buona visione! Come sempre in praticamente una settimana è arrivata la scatolina da JLCPCB. Ho già provveduto ad aprire i circuiti stampati e sono stati realizzati rossi. insieme all'amico Roberto abbiamo introdotto le modifiche per la versione 2 e quindi andiamo a vedere se questo circuito stampato funziona come atteso. Ad un primo esame, come sempre, notiamo una qualità assolutamente accettabile. Abbiamo appunto Z80 CPU versione 2.0. Qui è riportato il codice che il produttore JLCPCB ha deciso di mettere in questa posizione. Per inciso, se volete posizionare voi il codice in un'altra zona dovete scriverlo nelle note attraverso il loro sito. A titolo di paragone ho messo qua sulla sinistra la versione 1 sulla quale avevamo riscontrato diversi errori e qua la versione 2. Se vi ricordate, nell'ultimo video avevamo seguito un metodo con un foglio di inseguimento schede, cioè avevo segnato puntualmente tutte le modifiche da riportare fra la versione 1 e la versione 2. Purtroppo la versione 1 era stata sbagliata perché era partito per errore un file Gerber sbagliato e alla luce di questo poi ho scritto un articolo che ho pubblicato sul mio blog con tutte le verifiche finali da eseguire sul circuito stampato prima di mandarlo in produzione. Tra l'altro questo qua è stato anche il tema di una live che abbiamo fatto per i 25.000 iscritti. Quindi andiamo a vedere le modifiche rilevanti fra la versione 1 e la versione 2. A colpo d'occhio si vede subito che il fattore di forma è leggermente diverso ma soprattutto la disposizione dei componenti è diversa. Qui è stata selezionata una disposizione che facilita lo sbroglio. In effetti qua avevamo un giro di piste abbastanza complicato. Invece andando a riportare questi integrati stringendoli in pratica si sono accorciate le piste e quindi anche migliorata l'integrità dei segnali e soprattutto anche il passaggio piste di segnali fra un integrato e l'altro è diventato molto più facile. Un'altra area critica e problematica in versione 1 era la zona della generazione del clock affidata a un quarzo e ai condensatori. La disposizione dei componenti e le piste non era ottimale. In versione 2 invece vedete che abbiamo il quarzo, i condensatori e l'integrato con le porte logiche che ci serve a creare la nostra sorgente di clock tutte in questa zona sbrogliate con le piste più corte possibili. Avevamo poi un errore di connessione sul connettore di B9 e anche un errore di geometria infatti vedete che qua in serigrafia anche da un punto di vista meccanico era stata sbagliata la geometria. Sulla versione 2 è tutto corretto. Inoltre sul integrato max 232 che si occupa della conversione dei livelli rs232 verso i livelli che servono la nostra scheda digitale sono stati piazzati dei condensatori qui nelle vicinanze perché abbiamo visto che è anche molto critico questo valore di capacità. Infatti nella versione 1 c'erano dei problemi anche sui fronti di questi segnali e infatti con seriali collegate a un pc portatile quindi con livelli della rs232 che non erano molto generosi a volte si perdeva la comunicazione. Qua invece è stata curata bene tutta la parte delle capacità che servono al max 232 per poter convertire i livelli dal mondo 5 volt a rs232 quindi più e meno 12 volt. In generale poi in versione 2 il piazzamento dei componenti è stato fatto in maniera da ridurre le distanze infatti ricordiamoci che comunque sono segnali ad alta frequenza perché il clock è a 7 mega e quindi anche piccoli giri inutili o non correttamente sbrogliati possono creare guai sull'integrità dei segnali e questo poi implica problemi anche difficili da debagare. Qui ci troviamo sul lato saldature anche in questo caso ovviamente abbiamo il piano di massa ma le piste come vedete sono molto più definite lo sbroglio poi ha seguito delle regole molto più rigorose infatti notiamo che sul lato componenti le piste sono praticamente tutte orizzontali sul lato saldature invece vedete che sono praticamente tutte verticali si nota bene il piano di massa che è realizzato direi in maniera opportuna con tutte le distanze sulle clearance controllate dal tool e quindi direi che è molto promettente questa versione 2. Cominciamo con la saldatura degli zoccoli qua abbiamo un po tutte le famiglie perché abbiamo 14 16 24 28 32 e 40 pin quindi un po di assortimento tutto ho saldato i sette zoccoli sul lato saldature siccome per esigenze cinematografiche sono andato abbastanza in fretta adesso dovrò ripassare le saldature che non ritengo fatte bene anche se a vederle così direi che più o meno ci siamo questa versione 2 dello stampato è stata realizzata con deep trace quindi teniamo sott'occhio lo schematico per il montaggio quindi faremo riferimento alla distinta componenti originale ora procediamo spediti col montaggio di tutti i componenti passivi quindi condensatore da 100 nanofarad utilizzato come bypass su tutti gli integrati 7805 per la regolazione della 5 volt a partire dall'ingresso a 12 volt diodo contro l'inversione di polarità mur 120 abbiamo un led verde questa è una novità della versione 2.0 che essendo sulla 5 volt è alimentato con questa resistenza da 330 ohm in modo che la corrente sarà di 15 miliampere su questo led abbiamo il circuito del quarzo con i due condensatori da 22 pico parad poi resistenze r1 r2 sempre per la rete del clock 1 mega 1 k e qua abbiamo le resistenze una per il bottoncino di reset da 2.2 k e questa invece da 3.3 k che è una resistenza di pull up per la linea di int componenti un pochino più alti quindi gli elettrolitici qua sulla 5 volt 100 micro farad poi abbiamo questi quattro elettrolitici da un micro farad questi devono essere buoni perché contribuiscono al buon funzionamento del max 232 infatti nel prototipo 1 avevamo visto se il condensatore non è buono io ne avevo uno leggermente in perdita qua avevamo un problema e poi questo che è un 47 micro farad per l'alimentazione sempre del max ora andiamo a scegliere un connettore fenix per l'ingresso a 12 volt ho montato il fenix il connettore di b9 questa volta in versione 2 ha una geometria perfetta non montiamo per ora i pin header che tanto sono a scopo di test e quindi direi che siamo pronti per dare fuoco alla scheda prima di alimentarla andiamo a vedere col multimetro che resistenze si vedono in ingresso sulla 12 e anche sui pin vcc e gnd per vedere che non abbiamo dei corti o comunque delle basse resistenze ci mettiamo in misura resistenza vediamo tra i terminali della 12 volt in ingresso e resistenza molto elevata va bene poi per quello che riguarda la 5 volt ci mettiamo ad esempio sugli estremi di un integrato quindi vcc e gnd anche qui vedete la resistenza ovviamente cala perché stiamo caricando i condensatori però assolutamente una resistenza elevata ok possiamo alimentare forniremo una tensione di 12 volt con una limitazione in corrente di modo che se ci fosse una sovra assorbimento l'alimentatore andrebbe a limitare per evitare guai se fornisco 12 volt in ingresso si accende il led verde e la nostra vcc vale 5.026 quindi siamo pronti per montare i nostri integrati e microprocessore memorie e tutto quello che serve in queste condizioni la corrente assorbita è 9 miliampere sulla 12 volt e quindi la potenza è di circa 100 millivatt ho inserito tutti gli integrati vi lascio comunque in descrizione il link al data sheet di questa scheda dove ho messo la distinta componenti comunque abbiamo il max 232 il nostro Z80 il controller Acha M68B50 la RAM le porte OR e infine la EEPROM che contiene un software modificato infatti ho modificato l'intestazione con la personalizzazione del nome del canale di youtube se vi interessa sapere come è fatta la modifica rimanete fino alla fine del video che lo spiego molto velocemente ho fornito la 12 volt dall'esterno la potenza richiesta di circa un watt e mezzo abbiamo il led verde acceso andiamo a spingere il nostro bottoncino di reset per far partire il software ho messo a tutto schermo bottone di reset ecco compare la scritta iniziale facciamo un avvio cold quindi lettera c ecco vedete la personalizzazione ho messo il nome del canale 2021 youtube chi si ricorda il mitico manuale d'uso del commodore 64 lo utilizziamo per scrivere un primo programma semplice in basic però vorrei fare copia e incolla e non scrivere tutto il listato andiamo a vedere come fare ad esempio possiamo fare questo programmino del lancio di dadi che genera tramite due numeri casuali una coppia di dadi cosa che può essere anche utile in un gioco di società per poter fare copia e incolla ricorro alla versione elettronica del nostro manuale Commodore 64 gentilmente ospitata da lemon 64 un sito molto famoso con materiale allora andiamo a selezionare il nostro codice facciamo un tasto copia poi andiamo direttamente sul nostro terminale seriale e andiamo a fare incolla vedete che abbiamo nel buffer il contenuto del listato che dovremo leggermente modificare perché non sono stati presi due caratteri per esempio il carattere di per quindi qua ci vuole un asterisco e anche qui sotto inoltre dovremo rimuovere la riga 40 perché l'istruzione get in questa versione del basic implementata per z80 non è disponibile quindi ci darà errore comunque per ora lasciamo così facciamo ok e come vedete è stato sparato sulla seriale il nostro programma basic e quindi è già inserito ora se lo mandi in esecuzione con run vedete che il programma è partito infatti ci chiede di provare la nostra fortuna dado rosso 2 dado bianco 2 poi c'era la parte della riga 30 che chiede di spingere la barra spaziatrice solo che non è funzionante perché la get non funziona facciamo di nuovo run vedete 2 e 4 quindi il generatore di numeri casuali implementato in questo caso su z80 sta funzionando ho rincollato l'istruzione 40 e come vedete mi dà un errore di sintassi quindi punto interrogativo sn significa syntax error quindi non riconosce la get con questa modalità quindi potete salvare i vostri listati basic in dei file di testo e poi facendo copia e incolla sul terminale seriale li sparate in una volta sola questo permette di utilizzare il nostro mini computer anche se non ha una memoria di massa ma semplicemente utilizzate il pc come memoria di massa e gli sparate dentro i file ora modifico il programma per adattarlo al basic di nascom come vedete qua abbiamo un numero limitato di comandi invece della get useremo la input il nascom era un computer nato negli anni fine 70 in inghilterra e abbiamo proprio questo tipo di basic la modifica è semplicissima alla riga 30 quindi faremo una input premi 1 per nuovo lancio e lo andiamo a mettere nella variabile A se A è uguale 1 quindi rilanciamo i dadi quindi ritorniamo al 10 altrimenti andremo a scrivere se il video ti è piaciuto metti un pollice in su andiamo a incollare il nostro listato e poi mandiamo in esecuzione buona fortuna abbiamo tirato un 2 quindi se spingo 1 rifacciamo ancora il lancio fin tanto che non vado alla fine se il video ti è piaciuto metti un pollice in su per automatizzare un po' l'esecuzione di codice posso interfacciare il nostro Z80 con un Arduino scelgo un modello Omega 2560 che è dotato di più porte seriali fisiche e quindi posso collegare il mio Arduino Mega con l'USB e la sua prima porta seriale al PC così vedrò sul PC il mio terminale seriale uso l'altra seriale per essere collegato allo Z80 dobbiamo però stare attenti perché lo Z80 esce con uno standard RS232 e quindi i livelli sono quelli di una porta seriale e quindi per poter parlare con il nostro Arduino Mega abbiamo bisogno di interporre un altro integrato MAX232 che si occupa di fare la conversione tra i livelli TTL quindi riferiti alla 5V del nostro Arduino e i livelli di tensione richiesti dall'RS232 sia in entrata che in uscita in questo schema quindi quando andiamo ad azionare il nostro Z80 sulla porta di trasmissione lo Z80 comincia a sparare dei caratteri che escono dalla trasmissione attraverso nel cavo qua sul 232 vengono riportati a livelli compatibili con l'Arduino i quali li riceve su questa seriale chiamata seriale 1 faremo un piccolo programma che non fa altro che leggere dalla seriale 1 e risparare i dati fuori sulla seriale normale di modo che li potremo vedere a terminale quindi con questo flusso noi vediamo quello che Z80 sta buttando fuori poi c'è anche il flusso al contrario ossia se io spingo dei caratteri da tastiera posso fare in modo che questi caratteri arrivino allo Z80 sempre col percorso inverso qui però abbiamo un problema perché l'Arduino in tutte le sue versioni non ha mai implementato un controllo di flusso sulla porta seriale che utilizzi i vecchi segnali DTS, RTS, CLS in pratica Arduino utilizza solo i pin RX e TX riferiti a ground invece il basic che abbiamo su Z80 richiede che la porta seriale in standard RS232 utilizzi anche i segnali di sincronismo RTS e CTS questi segnali permettono al nostro Z80 di eseguire il codice basic e di sincronizzarsi appunto sulla porta seriale sono andato a cercare lo stesso Banzi aveva detto che sarebbe stato implementato il controllo di flusso seriale standard RS232 su Arduino ma io non l'ho trovato anzi colgo l'occasione per dire e chiedere se qualcuno di voi conosce di questo tipo di sviluppo me lo faccia sapere non avendo il controllo di flusso quindi riusciremo sicuramente a vedere quello che ci spara Z80 manderemo un carattere però poi dopo il nostro software si pianterà perché non è implementato il controllo di flusso andiamo a vedere la realizzazione pratica ecco la realizzazione dal nostro Arduino abbiamo i pin TX e RX che arrivano su questa basetta prototipale dove abbiamo il Max 232 con tutti i suoi condensatori per realizzare i livelli dell'RS232 infatti sappiamo che utilizza la tecnica delle capacità commutate da qui poi abbiamo i segnali che vanno direttamente sul connettore a vaschetta di B9 del nostro cavetto e da qua andiamo verso Z80 dall'altro estremo come sempre Z80 è collegato tramite il cavetto seriale diamo uno sguardo veloce al codice di Arduino che è molto semplice abbiamo nella funzione setup l'apertura delle due porte seriali a 15200 BOD qua ho specificato anche lo standard 8 bit no parità 1 bit di stop anche se non è necessario perché poi il default scritta iniziale poi nel loop abbiamo questa funzione che va a verificare se è presente un carattere sulla seriale 1 quindi quella collegata allo Z80 in questo caso viene letto dentro questa variabile intero in byte e poi viene stampato a video notate che si utilizza la funzione char perché noi ovviamente andiamo a convertire il byte letto da Z80 in carattere in modo che possa essere visualizzato sul monitor seriale il secondo pezzo della funzione loop è il duale ossia si va a vedere se ci sono dei caratteri disponibili sulla seriale questa volta quella collegata al nostro pc e nel caso ci siano vengono scritti direttamente sulla seriale 1 quella di Z80 quindi questa funzione loop non fa altro che fare da passacarte tra una seriale e l'altra ecco che potremo divertirci ad alterare il traffico che c'è fra il pc e lo Z80 andando a manipolare i dati se ora spingo reset sull'arduino mega compare la scritta iniziale adesso vado a spingere invece reset sul nostro Z80 ecco che vedete che viene sparata la stringa da Z80 se ora spingo il carattere C sul pc quindi mandiamo il carattere C maiuscolo direttamente sulla nostra seriale quindi C maiuscolo e mando invio vedete che lo Z80 risponde però a questo punto se io provo a fare a capo rimane piantato qui perché come dicevo prima il flusso hardware non viene implementato sulla porta seriale e quindi Z80 non riesce a sincronizzarsi vediamo ora come modificare le scritte all'interno della ROM del nostro Z80 quindi prendiamo il file esadecimale che è il file di programmazione della EEPROM e lo apriamo con Notepad++ che è un editor di testo se lo apriamo così abbiamo il formato Intel e dobbiamo vederlo invece in formato esadecimale per farlo utilizza un plugin che è il visualizzatore in esadecimale che ci rappresenta i nostri caratteri quindi vedete abbiamo gli indirizzi con tutti i caratteri in formato esadecimale da 0 a F e poi il DAMP qui a destra supponiamo di voler sostituire la parola Microsoft con una nostra frase personalizzata sappiamo che all'interno del file esadecimale di programmazione la parola Microsoft è stata rappresentata con dei caratteri in esadecimale quindi dobbiamo capire come trovarla utilizziamo questo encoder online QBIT che da una parola testuale mi dà il codice esadecimale quindi Microsoft in esadecimale corrisponde a questa stringa quindi 4D69 eccetera ora faccio una ricerca all'interno del file esadecimale di questa stringa di caratteri come ansi string quindi lui andrà a selezionare questo contenuto nella parte del DAMP eccolo qua se vedete in questa porzione del nostro file binario abbiamo esattamente la scritta Microsoft tradotta in esadecimale quindi la cosa che dovremo fare è andare a sostituire al posto di questi caratteri i caratteri che vogliamo che compaiano nello schermo iniziale nel mio caso ad esempio l'ho personalizzato con nome e cognome quindi Piera Isa e ho trovato questa stringa di caratteri esadecimali quindi andrò semplicemente a sostituire i caratteri di prima con questi qua nuovi cominciamo col primo carattere che è questo 4 che corrisponde al codice esadecimale 34 nel mio caso invece di 4D devo mettere 50 quindi al posto del 4 devo mettere 5 il carattere esadecimale invece di 34 sarà 35 vedete che è stato modificato ora devo sostituire la D con uno 0 quindi la D vale 44 lo 0 vale 30 quindi andiamo a mettere 30 e così abbiamo creato il primo 50 che sarebbe corrispondente alla lettera P maiuscolo ripeto questa operazione per tutte le 8 lettere e così avrò il mio file modificato dunque abbiamo sostituito i caratteri direttamente nel file di programmazione se volessimo invece farlo a livello di sorgenti lo possiamo fare perché questi sorgenti sono liberi e distribuiti li modifichiamo a nostro uso e consumo e li teniamo per noi quindi non c'è nessun problema quindi si va nel codice sorgente si identificano i byte che contengono le scritte iniziali che sono questi tre li modifichiamo come ci pare e poi andiamo a ricompilare questa è una modifica semplicissima al codice assembler magari in un prossimo video se vi interessa potremmo andare a modificare invece i sorgenti assembler per altri aspetti quindi ad esempio abbiamo questa ROM che ha il basic ne esistono tante altre per realizzare dei giochi o anche altri linguaggi come il Pascal a questo proposito segnalo la pagina NASCOM home page dove ci sono tutti i contributi che riguardano appunto i mitici computer NASCOM quindi trovate delle ROM già fatte che possono girare anche su Z80 proprio per la rappresentazione di questi giochi ovviamente nel nostro caso abbiamo uno Z80 con interfaccia seriale per poter avere l'uscita a display dovremmo fare delle modifiche alla scheda ma questo lo vedremo in dei prossimi video bene e con questo termina la puntata sul circuito stampato versione 2 per lo Z80 su singola scheda se vi interessa questo circuito stampato o anche i componenti potete scrivermi un'email nell'indirizzo che trovate in descrizione del video e comunque sulla mia pagina YouTube come sempre se il video vi è piaciuto vi è stato utile un bel pollice in su io vi saluto ciao e alla prossima grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.